oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro otto di torino buongiorno a tutti sono arianna e oggi leggerò i primati di torino la fabbrica italiana di penne aurora una delle più famose al mondo nella produzione di stilografiche è nata a torino ed ha prodotto il primo esemplare il 10 giugno 1919 isaia levi aprì il suo stabilimento in via della basilica nel quartiere aurora da cui il nome buongiorno noi siamo alberto federico e serena per il laboratorio aspidav alla ricerca di nemo scena 2 ciao oh ciao mi chiamo bruto lo so in fondo mi capisco perché filassino a scuola giusto che cosa ci fanno due stuzzicchini con voi in giro a quest'ora niente non facciamo niente non siamo neanche in giro grandioso allora buoncini vi andrebbe di venire ad una insieme a me sarebbe una festa sì sì esatto una festa credite oh mi piacciono le feste ci staranno a divertirsi siamo molti tentati ci piacerebbe ma non possiamo andiamo insisto va bene se proprio insisti guarda dei palloncini è proprio una festa attenti non avvicinavi quei palloncini fanno brutti sorprese meglio non farli scoppiare onda fiocco sarò nato volta finalmente abbiamo ospiti beh amica abbiamo finito i salatini e sarò capatissimo abbiamo l'acquolina a bocca far salivarci pensiero bene dichiaro l'unione ufficialmente aperta e citiamo insieme la promessa io sono uno scuola buono non un'automa divoratore di pesci se voglio cambiare questa immagine di me devo prima cambiare me stessa i pesci sono amici non cibo buongiorno io sono arianna e io sono francesco e per il laboratorio a speed hub la sirenetta scena 2 ariel aspettami avanti flounders brigati più veloce di così non ce la faccio eccolo là non è fantastico sì e come è magnifico ma non conviene stare qui non ti staranno per caso tremando le pinne a chi a me niente fatto è solo che là dentro sembra tanto umido sì ho paura di prendermelo a freddore sì ho una tosse va bene io vado dentro tu resta qui a fare la guardia e attento agli squali d'accordo si vede pure io resto qui a cosa squali ariel non ci passo aspetta ariel aiuto flounder ariel credi davvero possono esserci degli squali qui intorno flounder non fare il pesce rosso non sono un pesce rosso che posto fantastico sai vado matto per queste cose l'emozione l'avventura il pericolo in agguoto dietro ogni angolo oh no va tutto bene sì certo non preoccuparti sto bene buongiorno io sono norenzo e oggi vi leggerò il testo il qualsam per strada ci siamo svegliati per primi ci siamo vestiti mossi furtivamente distanza in stanza con la prudenza di una sentinella indiana abbiamo aperto la porta dell'entrata con la meticolosità di un orologiaio ecco siamo fuori nell'azzurro del mattino orlato di rosa un accostamento di cattivo gusto se non ci fosse il freddo che tutto purifica soffiamo una nuvola di fumo a ogni respiro siamo vivi liberi e leggeri sul marciapiedi del primo mattino meglio se la panetteria è un po' lontana cerrac mani in tasca abbiamo preceduto tutto ogni passo è una festa ci sorprendiamo camminare sul mordo del marciapiede come facevamo da bambini come se a contare fosse in margine il porto delle cose è tempo puro questa spedizione rubata al giorno quando tutti gli altri dormono quasi tutti laggiù ci vuole naturalmente la luce calda della panetteria luce al neon in realtà ma l'idea del calore le dona un riflesso ambrato ci vuole quel tanto di appannatura sul vetro quando ci avviciniamo è allegria del saluto che la panetteria riserva solo ai primi clienti complici dell'alba cinque croissant una baguette non troppo cotta il fornario in cannottiera infarinata si affaccia in fondo al negozio e ti saluta come si salutano i prodi al momento della battaglia siamo di nuovo in strada sappiamo che il cammino del ritorno non sarà lo stesso il marciapiede è meno sgombro un po' imborghesito dalla baguette stretta sotto il braccio dal pacchetto dei croissant tenuto con l'altra mano ma prendiamo un croissant la pasta è tiepida quasi molle questa piccola ghiotteria nel freddo mentre camminiamo come se il mattino invernale diventasse croissant dentro di noi come se noi diventassimo forno, casa, rifugio procediamo più lentamente tutti impergnati di biondo per attraversare l'azzurro il grigio, il rosa che si stempera comincia il giorno e ci siamo già presi il meglio buon pomeriggio, il mio nome è Federico e oggi vi parlerò della mia quarta opera si intitola il potere della luna la storia ripete dalla fine della lotta contro cui neve in cui Alex, Petra e Cibi e Colton insieme a Mau, Iria e Michaelius si reca dall'altra parte di Nino Kuni appena arrivati nel continente dimenticato si imbattono in alcuni soldati impazziti e una potente belva superati i primi ostacoli i quattro esploratori vengono condotti da una figura incappucciata in un refuso lo sconosciuto, che revela poi gli esseri Shin spiega loro la situazione sua santità Roderick, il sovrano del regno di Sanctus sta governando il continente con il pugno di ferro attraverso i mostri che ha creato convinto che l'intera Nino Kuni si emarcia fino al midollo loro vengono indirizzati i mostri ad eliminare prima di confrontarsi con sua santità Roderick ma devono fare conti anche con le popolazioni locali ormai divenute violente e prive di senno nelle miniere dei Mangiaterra nelle torre di Ossidiana nella cripta dei Santi e nella valle dei Depravati Nel frattempo Colton e Chibi sono prigionieri nella città Santa di Gaal e vengono visitati spesso dalle eroi uno dei cavalieri sacri a servizio del suo sentitore Roderick che tenta di convincere gli aroni sia loro appena il marchio del tradimento ma ciò che nessuno sa è che Sazer e Kublai si sono infiltrati nel tentativo di salvarli nonostante le difficoltà Alexa e i suoi alleati ripuliscono tutte le terre dalle belve e si preparano per andare alla città Santa di Gaal all'improvviso vengono circondati di un esercito di cavalieri sacri pronti a ucciderli ma vengono salvati dal tempestivo arrivo del Signore Oscuro di Lars e dei loro eserciti per trattenerli mentre Alexa va ad affrontare Roderick durante il tragitto la ragazza entra in un antico monastero contenente una spada conficcata in un peristallo e Shin si rivela il guardiano della spada e le parla di una sorta di profezia colui che sarà degno di impugnare la spada della luna ucciderà la sua santità Roderick il quale soccomberà sotto i due colpi e il portatore sarà riconosciuto come il salvatore Shin sfida a duello Alexa e quest'ultima ne esce vincitrice e ottene il diritto di essere la spada dal suo peristallo di pietra pronta a salvare Cibi e Colton Alexa si rende conto di amare Colton poiché è decisa tutto per poterlo salvare la ragazza e Mau entrano nella grande cattedrale dove risiede Roderick ma lì ci trovano Kublai e Zaza feriti e catturati dalle eroie il cavaliere sacro accusa Alexa pesantemente di aver profanato il suo Olosak del continente dimenticato e iniziano a combattere finché non appaiono Colton e Cibi che in qualche modo si sono liberati e uccidono il Templare Alexa e Colton durante la riunione hanno un momento di intimità e si scappa in un paccio appassionato subito dopo Colton ha una conversazione con Kublai e Zaza dove quest'ultima gli rivela di essere sua madre e gli dice di non diventare quello che gli altri si aspettavano da lui ma di seguire i propri sogni nel cuore della cattedrale gli aspetta Roderick che racconta di voler pulire la faccia di Nino Kuni per purificarla ma allo stesso tempo ammette di odiare se stesso per le proprie malefatte e che desidera morire per mano della profetizzata così parte un impegnativo combattimento dove sua santità si trasforma in un essere angelico un santo d'oro per usare i suoi poteri più seriamente ma alla fine Alexa lo uccide arrempiendo la profezia tuttavia il pericolo non è ancora passato un lanciere della chiesa, l'ultimo rimasto usa un miracolo proibito sulla carcassa pieterificata di Roderick e con la sua vita fa esuscitare sotto forma di santo d'oro Lucius il re di vivo coglie l'occasione per vendicarsi del tradimento di Alexa e il combattimento alla meglio ma viene fermato dal signore oscuro che cerca di risuadarlo dal suo obiettivo in vano Lucius viene ucciso una seconda volta e il pericolo è scongiurato ma Civi viene rapito da un essere sconosciuto forza da Alexa in un altro inseguimento grazie a tutti gli speaker che hanno partecipato a questa nuova puntata di Radio Teatro 8 per oggi è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata grazie a tutti